Tu hai detto che non voglio parlare di De Laurentiis, però lui mi ha anche spinto a prendere questa decisione. Non ti voglio portare nello specifico, però si può dire che era anche un problema di ambizioni, nel senso di crescita della squadra, che forse non era come tu ti aspettavi, Gonzalo. Era un problema perché io non avevo più rapporto con lui, più chiaro è impossibile. Lui non è stato bene con me e io non ho più rapporto con lui, io non avevo voglia di stare un minuto più con lui, quindi più chiaro è impossibile. Adesso sono ringraziatissimo alla società che ha fatto un esforzo enorme per me e spero dimostrare che non hanno sbagliato.